Zdenek Zeman dà la sua benedizione all'arrivo di Simone Andrea Gans. Ai microfoni di Sky, il Boemo ha spesso parole importanti nei confronti del figlio d'arte. È un giocatore che mi piace molto, anche se quest'anno è stato un po' sacrificato. Per me ha grosse doti, spero di averlo a mia disposizione. Nonostante una folta concorrenza rappresentata in particolare dal Foggia, ma anche da Perugia e Ascoli, il Delfino è in vantaggio. Ancora di più dopo l'incontro di ieri con l'agente del calciatore Davide Lippi, Gans arriverebbe in prestito dalla Juventus, con cui i discorsi erano stati allacciati a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia e il riscatto dei biancazzurri sarebbe obbligatorio in caso di pronto ritorno in Serie A. Zeman ha anche parlato in generale della prossima stagione. Per prima cosa bisogna cambiare mentalità, ha affermato il Boemo. Se una squadra non vince 24 partite di fila, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo cambiare mentalità e approccio. Il campionato di Serie B è particolare. Mi auguro di trovare giocatori con tanta voglia di lavorare e di dare soddisfazioni alla società e al pubblico. Se Gans è il nome più caldo sul fronte delle entrate, il Delfino è all'opera anche per le uscite. Un po' per la necessità di snellire la rosa, un po' per realizzare plus valenze che diano respiro al bilancio. Tra gli uomini chiave c'è il terzino Cristiano Biraghi. Su di lui c'è l'interesse forte di Bologna e Sampdoria, ma nelle ultime ore si è rifatta sotto anche l'Udinese, mentre si è raffreddata la pista che porta al Torino. Anche l'altro terzino, Francesco Zampano, è seguito con attenzione dalla Sampdoria. Per il giocatore genovese sarebbe un ritorno a casa. C'è mercato anche per colui che probabilmente è stato il miglior biancazzurro della stagione, Ahmad Ben Ali. Genoa e Cagliari si sono fatte avanti per avere informazioni. Tornando alle potenziali entrate, il presidente Sebastini ha confermato il gradimento verso il milanista Luca Vido, su cui c'è l'interesse anche del Cesena. L'attaccante ora è impegnato nei mondiali under 20 e ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Per gli esterni tanti nomi attenzionati, da Roberto Insigne ad Antonio Bacio Terracino fino al giovanissimo Cristian Capone dell'Atalanta. Anche se nelle ultime ore si registra un ritorno di fiamma per Daniele Verde, in biancazzurro fino a 12 mesi fa, per mezza stagione, il giocatore, sempre di proprietà della Roma, viene da un buon campionato con l'Avellino.